Chi è un cane o un gatto avrà certamente sentito parlare dei forasacchi e del pericolo che rappresentano per i nostri amici a quattro zampe. Ma che cosa sono e perché sono così pericolosi? Lo scopriamo oggi in questo video in cui vi rivelerò tutto ciò che c'è da sapere per proteggere i vostri animali. Ciao, io sono Corrado Siano, medico veterinario. Con l'arrivo della primavera, come ogni anno, puntualmente arrivano anche i forasacchi. Ma che cosa sono? Sono delle piccole spighe di graminacee selvatiche. La loro pericolosità sta nel fatto che sono in grado di scavare delle vere e proprie gallerie nei tessuti dei nostri amici a quattro zampe. Ma come ci riescono? Grazie ai loro microscopici uncini che ricoprono tutta la loro superficie. Gli uncini sono tutti rivolti nello stesso verso, il che significa che una volta che si orientano verso una direzione, possono solo andare avanti e mai indietro. Vi faccio un esempio utilizzando questa spiga. Muovendo le mani gli uncini fanno presa sulla pelle e restano ancorati. Più mi muovo e più la spighetta avanza. Notate che la spiga va solo in avanti e mai indietro, nonostante io stia provando a farla indietreggiare. E quando sono secchi la punta diventa dura e appuntita, quindi è capace di perforare pelle e organi. Immaginate adesso un forasacco che si fa strada attraverso i tessuti del vostro cane o del vostro gatto. Il meccanismo è lo stesso, può andare solo in avanti spinto dai movimenti del nostro amico a quattro zampe. Certo il processo richiede del tempo, ma le distanze che possono percorrere queste spighette sono davvero impressionanti. E in base ai distretti che attraversano possono fare dei danni più o meno seri. Ma come fanno Fido e Micio a prenderli? Li prendono dall'ambiente, quando vanno nei terreni dove sono presenti queste piante. E purtroppo queste graminacee sono molto diffuse, ma le spighette non stanno solo sulle piante, possono finire anche sul terreno e anche lì possono essere prese dai cani o dai gatti. Quindi anche se l'erba è stata tagliata, il pericolo rimane. Tutte le parti del corpo sono vulnerabili ai forasacchi, a cominciare dalla testa. Soprattutto i cani, quando vengono portati fuori, esplorano il mondo attraverso il loro naso, quindi passano un sacco di tempo con la testa bassa ad annusare. E se c'è un forasacco per terra, questo può venire inalato dal cane. E non importa quanti starnuti possa fare, difficilmente il forasacco verrà fuori. Ma nemmeno bocca, orecchie e persino gli occhi sono al sicuro. Le spighette possono rimanere incastrate nel canale auricolare, nelle gengive, sotto la lingua o addirittura sotto le palpebre. Anche le zampe possono essere a rischio, specialmente nelle razze più pelose. Infatti camminando possono rimanere dei forasacchi imbrigliati nel pelo o tra le dita. Da qui i continui movimenti possono favorire la progressione del forasacco, che inizialmente perfora la cute. per poi farsi strada dentro i tessuti dello sfortunato quattro zampe, avanzando a ogni movimento dell'animale. Ma non solo sulle zampe, ma anche sul torace, addome, collo, insomma su tutta la superficie del corpo possono penetrare i forasacchi. E nemmeno i genitali sono al sicuro. Infatti le spighette possono entrare anche nella vulva o nel prepuzio. E a prescindere dal sito ringresso, una volta che la spighetta è entrata, è davvero difficile che possa uscire senza un intervento esterno. Piccola curiosità, sebbene i forasacchi possano interessare sia i gatti che i cani, statisticamente sono i cani ad essere molto più colpiti rispetto ai gatti. Adesso vediamo quali danni provocano queste graminacee ai nostri amici a quattro zampe. Una volta penetrati nell'organismo, questi piccoli intrusi scatenano un vero e proprio caos. L'infiammazione è il primo segnale d'allarme ed è caratterizzata da gonfiore, arrossamento e dolore della zona colpita. Se il tempo passa può prendere piede un'infezione e si può formare anche un ascesso, ovvero una raccolta di pus. I forasacchi infatti non sono sterili, ma ospitano un'incredibile varietà di batteri che finiscono nel corpo dei nostri adorati cani e gatti. Ma non finisce qui, infatti come abbiamo visto i forasacchi possono progredire. Se non vengono rimossi possono compiere delle vere e proprie migrazioni all'interno del corpo. Immaginate una spighetta che penetra nella pelle del fianco e si fa strada attraverso il sottocute arrivando chissà dove, magari vicino alla coda. Oppure può addentrarsi nell'addome e raggiungere gli organi interni. Queste migrazioni possono coinvolgere qualsiasi parte del corpo, testa, addome, apparato respiratorio, insomma nessun distretto è al sicuro. Lungo il tragitto il corpo estraneo continuerà a provocare infiammazione, fastidio e dolore. Nei casi più estremi questi processi coinvolgono strutture vitali o possono indebolire pesantemente l'intero organismo mettendo a repentaglio la vita del nostro amico a quattro zampe. Vediamo ora quali sono i segnali per capire se il nostro amico peloso ha preso un forasacco. Tutto dipende dalla zona in cui la spighetta si è infilata. Iniziamo dal naso, una delle parti più colpite. Il sintomo più importante è lo starnuto con cui Fido tenta di buttare fuori l'intruso. Tuttavia le probabilità di espellere il forasacco sono molto basse quindi continuerà a starnutire di tanto in tanto mostrando anche all'occorrenza fastidio nel naso. Potrebbero manifestarsi degli starnuti singoli o una raffica di starnuti. Inoltre Fido potrebbe grattarsi il naso e potrebbe strofinarlo al suolo per tentare di alleviare il fastidio e potrebbe anche uscire del muco o del sangue dalla narice coinvolta. Un'altra zona frequentemente colpita sono le orecchie. L'animale colpito tenderà a grattarsi, a scuotere la testa nel tentativo di liberarsi dal materiale estraneo. Il fastidio può essere così intenso da indurgli anche a inclinare la testa verso il lato dell'orecchio interessato. Poi ci sono gli occhi che non sono colpiti così spesso ma può succedere scatenando fastidio prurito e lacrimazione accentuata con l'occhio chiuso arrossato e gonfio. Passiamo ora alle zampe. Se un forasacco si dovesse conficcare sotto i polpastrelli o tra le dita il sintomo principale sarà una lieve zuppia. Inoltre il nostro amico a quattro zampe tenderà a leccare l'area interessata che apparirà gonfia e arrossata col foro d'entrata più o meno in evidenza. Anche la pelle di dorso, collo, torace, insomma di tutto il corpo diventerà gonfia e dolorante se viene attraversata da un forasacco. Una menzione speciale meritano i bronchi. Infatti le spighette possono venire aspirate non solo col naso ma anche con la bocca. Se questo accade il corpo estraneo può finire nelle vie respiratorie e localizzarsi in un bronco. L'unico sintomo in questo caso sarà la tosse perché l'organismo tenterà di liberarsi del forasacco. Ora mettiamo che il nostro amico a quattro zampe abbia preso un forasacco. Come si procede? L'unica cosa che si può fare è rimuovere il corpo estraneo dal veterinario. Il grado di difficoltà dipende dalla sede e da quanto tempo è passato e la brutta notizia è che non sempre si riesce ad estrarre un corpo estraneo. Per le orecchie si usa un otoscopio per guardare dentro e una pinza apposita per afferrare la spighetta. Se il paziente è collaborativo può bastare solo un'altra persona che lo mantiene mentre si estrae il forasacco altrimenti è necessaria una sedazione. Lo stesso discorso è applicabile ai forasacchi cutanei che magari sono rimasti superficiali e sono facilmente agganciabili dalla pinza. Più complessa è una situazione se le spighette sono state inalate nel naso. In questi casi servirà una sedazione più profonda per cercare il forasacco nella narice. Ricerca che può avvenire con lo stesso otoscopio o con un endoscopio. L'endoscopio è una sonda a forma di tubicino lunga diverse decine di centimetri che monta una telecamera alla sua estremità. È usato per guardare dentro al paziente senza doverlo operare. Inoltre anche degli appositi alloggi per far passare delle pinze in modo da agganciare anche eventuali corpi estrani. L'endoscopio è usato anche per rimuovere quei forasacchi che sono finiti nei bronchi polmonari. Nei casi più complessi bisogna ricorrere alla diagnostica come l'ecografia per rindividuare la posizione delle spighette. È il caso ad esempio di quei forasacchi che hanno scavato delle gallerie all'interno del sottocute. Per rimuoverli si infila la pinza nel foro d'ingresso e si avanza per tutto il tragitto. Purtroppo l'ecografia permette di avere solo un'idea approssimativa della posizione della spighetta. Quindi bisognerà fare diversi tentativi con la pinza per provare ad agganciare il corpo estraneo e non è nemmeno detto che ci si riesca. Per quei casi ancora più complessi ci vuole l'attack. Sono tutti quei casi in cui il forasacco si trova in zone non accessibili né con l'endoscopia né con l'ecografia. Ad esempio polmoni, cavità toracica o cavità addominale. E in questi casi possono finire in sala chirurgica per tentare di dissezionare i tessuti coinvolti e rimuovere il corpo estraneo. Ma nemmeno questa è una cosa semplice. Stiamo parlando infatti di tessuti infiammati che hanno subito un pesante rimaneggiamento alterando la loro struttura. E la chirurgia può durare anche tantissimo se non si riesce subito a individuare il forasacco. Tenete conto che è come cercare un ago in un pagliaio dove la normale anatomia è stata completamente alterata dall'infiammazione. Possono addirittura essere asportate intere porzioni di tessuto o di organo. A volte addirittura i tentativi di estrarre il corpo estraneo possono fallire. E possono essere necessarie chirurgie e tentativi successivi se la situazione lo richiede. Ma noi proprietari di cani e gatti possiamo fare qualcosa per proteggerli? Ovviamente sì e la prevenzione è sempre la migliore arma. Il primo consiglio che vi do è quello di evitare di portare i vostri amici a quattro zampe nelle zone dove sono presenti i forasacchi. Il che è un bel po' complicato visto che sono un po' dappertutto e il pericolo rimane anche se l'erba è stata tagliata. Esistono poi delle muserule apposite contro i forasacchi ma non è detto che il cane li accetti o che le tratti con la dovuta delicatezza o che li stiano anche bene. E in ogni caso proteggono solo naso e bocca e tutte le altre aree restano a rischio anche se comunque è una piccola protezione in più. Un altro consiglio importante è quello di controllare il vostro amico a quattro zampe ogni volta che si ritorna a casa dopo la passeggiata. Quindi accarezzatelo e cercate delle eventuali spighette che sono rimaste imbrigliate nel suo pelo e rimuovetele una ad una. Cercate sotto le zampe e tra le loro dita lungo tutta la lunghezza di zampe, addome e torace. Non tralasciate nemmeno ascelle e inguine e controllate anche la testa e le orecchie. Insomma accarezzateli in lungo e largo. E se sospettate che ci sia un forasacco da qualche parte andate dal veterinario quanto prima. Infatti in questi casi più si aspetta più la situazione si complica. E poi meglio controllare e non trovare nulla piuttosto che rimanere col dubbio. Ricordate la sicurezza e la salute dei nostri amici a quattro zampe dipendono da noi. Con attenzione, prevenzione e cure adeguate possiamo difenderli dal pericolo di forasacchi e regalare loro una vita felice e serena. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. Condividete queste informazioni con altri amanti degli animali e lavoriamo tutti assieme per mantenere al sicuro i nostri cani e i nostri gatti. Ciao!